Buongiorno Marina, oggi così proprio come richiesto dai familiari di Rea Walter Albi c'è stato il rito funebre in forma strettamente privata presso l'ospedale civile di Pescara, tutto questo intorno alle 10, poi intorno alle 11 come vedete da queste immagini. Il feretro ha lasciato l'ospedale civile di Pescara e si è diretto a Francavilla dove intorno alle 11.30 a mezzogiorno c'è stata la tumulazione curata dall'amministrazione comunale di Francavilla. Tutto questo voluto dai familiari di Walter Albi soprattutto a tutela della figlia minore di Walter che ha soli 9 anni per cui gli avvocati hanno voluto ovviamente proteggere la bambina. Quindi cercare di evitare la grande onda mediatica ma anche la presenza sicuramente massiccia di persone che volevano dare l'ultimo saluto all'architetto di 66 anni, residente a Francavilla, ucciso nel terribile agguato del primo agosto scorso alla barra del parco sulla strada da parco di Pescara. In quel agguato è rimasto gravemente ferito Luca Cavallito, 49enne ex calciatore che continua il suo decorso all'ospedale civile di Pescara. Per lui sesto intervento chirurgico per la ricostruzione dello zigomo. resta in condizioni instabili, gravi ovviamente e in coma farmacologico piantonato H24 dalle forze dell'ordine con anche l'ausilio di tutto il personale sanitario dell'ospedale civile di Pescara. una cappa di protezione su Cavallito in un contesto estremamente inquietante Marina, ormai quello che si è acclarato è che questo agguato porta la firma indelebile di una grossa organizzazione criminale forse legata anche a qualche clan mafioso per cui bisogna agire nell'estrema riservatezza soprattutto a tutela delle persone coinvolte. sul fronte delle indagini, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, continua il lavoro del tecnico della procura di Pescara accertamenti tecnici irripetibili sui tanti dispositivi tecnologici a disposizione, i vari telefonini sia di albi che di cavallito ma anche tablet e pc portatili. pensate sul fronte delle testimonianze sono state identificate qualcosa come 3.000 persone, questo insomma a dimostrazione di come stia lavorando in maniera veramente scrupolosa la procura e gli inquirenti della squadra mobile guidata da Gianluca di Frischia. 3.000 persone individuate, identificate che comunque facevano parte del giro di amicizie sia di albi che di cavallito allo scopo di trovare elementi importanti che possano legare i due a qualche organizzazione criminale. cade, e chiudo qui perché è una notizia appena giunta, cade l'ipotesi del debito perché pare a detta dell'avvocato di Walter Albi che Albi non avesse alcun debito e quindi potrebbe a questo punto prendere forza l'ipotesi del credito e quindi qualcuno che doveva dei soldi ad albi e cavallito e loro ovviamente cercavano di avere questi soldi e in cambio hanno invece subito questo vile e terribile agguato. Siamo sempre nel campo delle ipotesi, Marina lo sai, per cui insomma diamo questa notizia sempre con il beneficio dell'inventario.